Sta succedendo Sta succedendo Sta succedendo Sta succedendo adesso La realtà, la realtà La realtà Il ritorno Mezzo la massima simmetria L'hanno visto Potevano certo permetterlo Ma la speranza del tempo è riconoscibile Non ci possono più imbrogliare La possibilità di trasmettere sensazioni e emozioni Ha la possibilità di trasmissione coscienza Liberandola dentro la spirale cosmica Questo era il programma del Dottor Kappi Le mani dell'oligarchia Forse sono entrati in possesso del programma Con quali scopi In quale direzione posso averlo modificato La ghiandola pineale La ghiandola pineale Ehi, dico a te Io le ho viste con le luci Le ho viste Tutti le vedranno Tutti E se nel substrato della matrice Fossero stati liberati gli elettro killers E' così che le chiamava il dottor Kapp E lui 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 è scomparso Chissà che fine ha fatto Era convinto di aver creato il sistema Per aprire la coscienza planetaria Al nuovo inizio La rivoluzione L'ultima rivoluzione La città sembra morta Nessun rumore Nessuna voce Che sta succedendo? Che sta succedendo? L'ultima rivoluzione L'ultima rivoluzione Basta solo guardare Puoi farne a meno Di penetrare il cervello L'ultima rivoluzione Nessun rumore 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.